Ciao a tutti oggi siamo al Vat Vovonnivet Viara. Come potete vedere il tempio oggi è molto affollato per le commemorazioni al defunto re. Il tempio è aperto tutti i giorni dalle 6 alle 18. L'ingresso è gratuito. Il Vat Vovonnivet è un importante tempio reale quindi per la visita bisogna vestirsi in modo appropriato. Il Vat Vovonnivet è un grande tempio costituito da un Ubozot, un Cedi, diversi Vyarn e una biblioteca dalle Sacre Scritture. Il Vat Vovonnivet Il 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 Vovonnivet Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.